ciao allora oggi aspettate perché siete appoggiati sulle ginocchia perfetto location completamente diversa dal solito perché sono a casa di mia mamma ma se no non sarei mai riuscita a fare questo video perché uno c'è caldissimo e devo tenere le finestre aperte due volevo comunque farlo per aggiornarvi un pochino perché comunque sia e volevo parlare di luglio agosto e settembre e luglio è andato quindi ok e però i vicini che stanno segando non so che cosa sembra una segheria ambulante quindi perdonatemi ed è location diversa che comunque sia a voi non cambia niente anzi così prospettiva anche diversa e vi aggiorno un attimo su alcune cose mi ero fatta una scaletta però ovviamente la scaletta è a casa e quindi cerco di andare un attimo a ruota libera ricordandomi che cosa dovevo dirvi allora intanto prima di tutto avete visto che luglio che è andato agosto lo vedete e settembre invece di due video settimana quindi lunedì e giovedì ce n'è uno perché e io in primis penso che sto molto meno a vedere i video quindi ne vedo meno ne guardo meno e magari faccia preferisco fare altre cose preferisco stare altri e fuori quindi il video ne guardo pochi e quindi ho pensato anche che per voi fosse meglio avere pochi video da vedere comunque sia perché si sa che un periodo un pochino di calo il periodo estivo quindi ho preferito fare un video settimana che così almeno avete il tempo per vederlo piuttosto che rischiare che sia visto da poche persone è meglio per me ma credo che sia meglio anche per voi quindi luglio che è andato agosto settembre un video settimana almeno che non ci siano cose aggiornamenti super da dirvi comunque sia invece gli aggiornamenti ne faccio spessissimo cioè spessissimo quotidianamente posto almeno un post su instagram quindi quotidianamente da lunedì al sabato quindi ci sono delle foto di unboxing, ascensioni brevi ed alcune cose che mi arrivano, alcune cose che mostro oppure gli aggiornamenti della casa, del giardino, foto anche carine e quindi lì invece sono molto più attiva se non avete instagram quindi io vi consiglio di andarmi a seguire lì per seguire tutto anche perché credo che sia più divertente youtube, youtube è molto incentrato sul make up e sul beauty mentre su instagram c'è un po' di tutto ed è quindi penso che possa interessarvi anche ai maschietti comunque sia se non avete instagram non c'è problema perché c'è sempre il post che metto su instagram e anche su facebook e sul blog quindi qui in descrizione ci sono tutti dei link mi seguite tranquillamente dove volete dove preferite ed è siete sicuri che non ne parlate neanche uno e preferisco intanto per questo periodo poi dopo sto fermo perché sono ballate anche voi attenzione ok poi dopo volevo dirvi altre cose intanto che è ora di dare una svolta sì allora pensavo un paio di cose dunque e il mio canale il mio canale è sempre stato intercentrato sul beauty io col make up sono sempre stata lì quindi preferisco il make up è sempre stata mia passione il beauty soprattutto il beauty low cost perché davvero ci sono delle cose interessantissime low cost e quindi credo che il canale resterà sempre incentrato sul make up sul beauty soprattutto sui prodotti low cost e accessibili accessibili facili da reperire online o in negozi ma facili da reperire e quindi quello sicuramente però volevo cambiare anche un pochino genere quindi un po più di lifestyle e non mi metterò mai a fare delle ricette perché non sono capace di cucinare quindi però decorazioni della casa cose semplicissime cose che potete trovare ad esempio la tiger e decorare così quelle cose che normalmente faccio dietro le quinte e potremmo fare davanti anche per tenere solo un po di compagnia e testeremo un primo video che avevo registrato tempo fa quindi sarà ancora con il maglione ma comunque sia è sempre attuale perché non l'avete visto quindi è attuale e vediamo un attimo come può andare se più piacere la cosa se anche per tenere un po di compagnia per cambiare un po io pensavo di cambiare anche un po già andare anche perché beauty make up interessa alle femminucce però o anche guardando un attimo il seo di tutta la parte di dei follower di youtube o alcune a guarda parte maschile e quindi o sono interessati alle creme al beauty oppure pensavo di fare delle cose che potessero interessare un po a tutti un po anche a tutte le età e un po a tutti i generi così per cambiare un po di lifestyle quindi poi adesso che state comunque sia con il giardino ed sono avanti oppure dei lavori in casa perché i lavori in casa io ne ho sempre sempre perché facciamo tutto io e mio marito quindi sicuramente adesso c'è caldissimo e non li facciamo ma ci saranno da fare delle cose e penso che avranno anche i muratori a settembre quindi potremmo anche e farvi vedere questo così per aggiornarvi un po anche per chi fa delle chiacchiere video shopping ci sarà sempre ci sarà sempre tutto quindi ok cosa altro devo dirvi sono pensando alla scaletta assi ok mi ricordo andando a ruota libera allora intanto se non muoio prima e dunque la faccenda di brochet avete visto i video avete visto che sono davvero scontenta di questa situazione però ed avevo chiesto a voi nelle ultime dirette se preferivate che comunque vi mostrassi ancora i prodotti e alcuni hanno detto di no alcuni hanno detto di sì quindi facciamo che non vi mostro più i cataloghi almeno che non ci siano delle novità quindi non mi mostro tutto il catalogo le promozioni set tutte quelle cose che mi mostro ci sono delle novità delle novità interessanti che comunque ho notato ed è sempre e come si dice è sempre maggiore allora rifacciamo il discorso ho notato che tanti prodotti del libro che se non avete una consigliera di bellezza oppure se non avete un negozio vicino sono reperibili anche su amazon e spesso io nei prodotti che cito guardate sempre l'infobox perché io nei prodotti che cito vi metto sempre il link di amazon e quindi se non avete un negozio vicino sono reperibili anche lì e i link sono affiliati ma io guadagno pochissimo su questo comunque sopportarmi mi date anche una piccola una piccola mano quindi se per caso i prodotti nuovi vi possa interessare ma non avete un negozio vicino perché può essere tranquillamente ci sono sempre in vendita spesso e volentieri soprattutto da poco tempo quindi dalle novità in su anche su amazon e quindi perché no scusate vi mostro solo le novità interessanti ma non più i cataloghi come prima poi devo dirvi qualcos'altro sì altra cosa che dovevo chiedervi ecco e se vi può preferite il dunque le scoperte del mese ci saranno sempre perché a me piace fargli vedere il video delle scoperte del mese quei prodotti beauty ed è però se preferite così prodotti a random quindi tre prodotti o cinque dipende da quanti sono e in base a come li finisco se preferite che faccio delle divisioni quindi le scoperte del mese per i prodotti beauty oppure per il make up per il make up no perché faccio le accensioni lunghe i posti beauty prodotti per i capelli prodotti per il corpo se preferite che ve li divido e così guardate quello che preferite oppure sto ferma con le mani oppure se comunque vi faccio i prodotti random tanto comunque anche prima del video ci sono sempre la foto con i prodotti quindi vedete subito se i prodotti vi interessano oppure no però guardate il video perché succede sempre di tutto nei miei video quindi anche se non mi tassi i prodotti vi fate due risate sicuro e direi sto pensando ma credo nient'altro un'altra cosa breve che però non posso vedere perché non sono a casa comunque ho ed è provato un action cam del tipo la gopro che però è su de le persone su amazon eco e cinese ma costa tantissimo meno non alla qualità della gopro ok però per quello che devo fare io quindi spezzoni di video oppure per portarmelo in giro ed è va benissimo se per caso di interesse anche in questo caso non so e adesso che periodo di coltivazioni quindi le lavori in giardino oppure l'orto anche perché comunque io non ho terra in giardino non ho terra quindi è tutto in vaso oppure in cassetta ed è replicabile quindi anche su un balcone chi non ha un giardino magari può interessarvi e io direi che con questo video credo di avervi detto tutto se mi dimentico qualcosa perché non ho la scaletta portata di mano se per caso mi dimentico qualcosa e devi fare un aggiornamento con la io del futuro e intanto vi saluto ciao a poco che vi saluto che vi saluto che saluto non 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 se vi piaciuto questo video mettete un like iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrete avvisato ogni volta che carico un nuovo video adesso vi saluto alla prossima ciao